Con un'operazione della Guardia di Finanza di Pescara, più di 850 operatori economici, per lo più stranieri, scoperti dalla Guardia di Finanza di Pescara per aver effettuato, senza dichiararlo al fisco, delle vendite irregolari di beni a consumatori privati attraverso i canali dei colossi del marketplace. La stretta sull'evasione nell'e-commerce ha fatto emergere un giro d'affari milionario. Il business supererebbe complessivamente un volume di 1,3 miliardi di euro. Di queste, oltre il 47% sarebbe stato occultato all'erario con, in pratica, quasi 300 milioni di IVA e vasa, è dunque non dichiarata. L'inchiesta delle fiamme gialle di Pescara si è incentrata sull'analisi dei dati riguardanti oltre 2.500 venditori posti in raffronto con gli elementi informativi forniti dai gestori dei siti e-commerce. Dall'attività investigativa è emerso che gli ordini effettuati su note piattaforme web riguardavano principalmente merci tessili ed elettroniche e pervenivano da una vasta rete mondiale di imprenditori che, omettendo di registrarsi ai fini IVA o anche dichiarando un volume di vendite sul territorio italiano inferiore a quello reale, massimizzavano i profitti e quindi mettendo di fatto in campo una concorrenza sleale con gli altri operatori di mercato. Nella quasi totalità dei casi si sono rapidamente attivati per effettuare versamenti in favore dell'erario italiano questi operatori di mercato scoperti in modo da regolarizzare la loro posizione. Gli accertamenti proseguiranno con gli interventi di verifica fiscale per il recupero e la tassazione delle somme milionarie e vase e non dichiarate all'erario. Ma su questa operazione ascoltiamo il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara Antonio Caputo. Nell'operazione Free Commerce a contrasto dell'evasione fiscale internazionale la Guardia di Finanza di Pescara sta effettuando numerosi approfondimenti sulle posizioni fiscali di operatori economici italiani ma soprattutto stranieri che hanno effettuato cessioni sul web di merce di vario tipo ma senza adempiere agli obblighi tributari. Gli analisi che abbiamo in corso permetteranno di individuare ogni singola posizione debitoria in maniera tale da poter recuperare all'erario le centinaia di milioni di euro complessive di IVA dovuta.